Perché è un libro sul porno? Perché quest'idea è nata comunque da un'esigenza personale mia e degli altri curatori che avevamo intrapreso in maniera del tutto indipendente un percorso di ricerca sulla pornografia. A un certo punto poi ci siamo trovati a un convegno, il convegno che è poi la Spring School di Gorizia che si tiene tutti gli anni appunto a Gorizia, ci siamo ritrovati in un pomeriggio dedicato alla pornografia perché avevamo appunto indipendentemente mandato a questo convegno degli abstract sul tema del porno. Tutti e tre, io e gli altri due curatori che sono Enrico Biasin e Federico Zecca, avevamo incontrato nel nostro percorso di studio gli studi anglosassoni, cioè soprattutto ovviamente Linda Williams che è stata la prima a sdoganare dal punto di vista teorico lo studio del porno e avevamo pensato che sarebbe stato bello provare a importare i porn studies, cioè quella branca degli studi culturali che si dedicava specificatamente allo studio della pornografia anche in Italia. E quindi ci siamo detti perché non mettiamo insieme alcuni degli interventi dei personaggi che sono intervenuti al convegno con interventi scritti da altri studiosi apposta per il libro e facciamo un libro in italiano. Perciò è nata questa idea del porno espanso. La nostra, sempre un'altra fortuna che abbiamo avuto è stato che non solo il convegno ha creduto in questa prospettiva, ma anche la casa editrice Mimesis, diciamo a fronte di un nostro invio ad un progetto, ha creduto in questa idea e ci ha permesso di fare il porno espanso. Che quindi è nato come un tentativo di fare una ricognizione a 360 gradi, o almeno ci abbiamo provato, sulla situazione del porno audiovisivo contemporaneo. Quindi con una prospettiva assolutamente sincronica, cercando di prendere in esame tanti aspetti della pornosfera, cioè della propagazione del porno nei media, e anche però di come il porno si è propagato e ha intaccato, diciamo, i media pornificandoli, cioè creando una sorta di colonizzazione pornografica degli altri media non pornografici. Allora, la prima questione è quella della legittimazione del porno, in realtà è una questione che va un po' indietro rispetto semplicemente all'avvento del web 2.0. Diciamo che noi nati, insomma, in un periodo, fai conto, io sono del 74, però ho vissuto appunto gli anni 80, non ci rendiamo, secondo me, tanto conto del fatto che c'è stato un periodo lunghissimo nella storia, in cui la pornografia era vietata, cioè in cui non era possibile vedere immagini pornografiche legalmente. Questa cosa, cioè il fatto che la pornografia audiovisiva sia nata effettivamente con il cinema, perché è nata esattamente quando sono nate le immagini in movimento, però che abbia vissuto praticamente la maggior parte della propria storia in maniera sotterranea è una cosa che spesso oggi nel mondo pornificato che viviamo tendiamo a dimenticare. Il momento in cui invece il porno è comunque passato dal, Linda Williams parla di oscenità, cioè fuori dalla scena, intendendo oscenity, fuori scena, al oncenity, che è un termine molto bello che è utilizzato da Linda Williams per dire che il porno finalmente sale alla ribalta mediale e sale sulla scena della legittimità sociale, è stato quello degli anni 70, cioè in cui finalmente il porno è passato dalla visione in casa del collezionista o nel bordello, alla visione nelle sale cinematografico. Ora, chiaramente questo è stato un processo, è stato come dire una specie di uragano, cioè in cui veramente sono cambiate proprio le cose, cioè dall'inegalità alla legalità, moralmente riprovevole, sanzionabile, vista sempre come una cosa comunque per pervertiti, col cappotto, che però comunque legale, legale o legittimata, no? Nel caso per esempio italiano non si può parlare negli anni 80 è successo in Italia, no? Perché il porno nelle sale cinematografici è arrivato a fine anni 70. Non si parla di una vera e propria legalizzazione, però di un così, di una legittimazione, di una liberalizzazione. Ora, chiaramente quello che è successo poi con l'avvento del home video e in particolare dopo con l'avvento di internet è stato che non solo il porno era passato sulla scena, ma era diventato predominante in questa scena, cioè secondo me addirittura l'avvento di internet ha reso la stessa categoria di oncinity quasi obsoleta, cioè quasi antica, perché ormai non è più che oncinity, è che è pervasivo il porno ormai, cioè è passato dall'essere tollerato all'essere appunto pervasivo, penetrante nel sociale, nell'immaginario, capace di colonizzare la moda, la musica, il cinema legittimo, appunto l'immaginario in maniera molto molto più forte semplicemente di quando era passato alla legalità negli anni 70. Dire che il porno è stato legittimato da internet sicuramente è parziale, però è vero che con internet il porno ha raggiunto un'estensione, una capacità anche di relazione, cioè una possibilità di relazione molto superiore a quella precedente, comunque targettizzava per esempio l'audience, perché era difficile a dire ora esco di casa, vado al cinema porno, anche quando poi c'è stata poi la questione del video noleggio, allo stesso modo era difficile entrare nella sala quella privata dei video noleggi, mentre con internet chiaramente si è creata una penetrazione del porno nelle case delle persone in maniera molto più pervasiva, che ha creato anche un ampliamento del target, cioè il fatto che adesso appunto c'è questo dibattito, che anche i bambini volendo possono accedere ai siti porno, quindi secondo me diciamo che più che di legittimazione tramite internet, secondo me è stata proprio una forma appunto di pervasività, di proliferazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!